E con queste immagini che potete vedere stiamo constatando questa sorta di accampamento, definiamolo tale. Qua abitano due persone accanto a me, infatti c'è uno di loro, Massimo Cagliaritano, 47 anni. Massimo, ma come si fa a vivere, a abitare all'interno di questa sorta di casuppola, al freddo, al gelo, sotto la pioggia? Allora, come vedete anche, ieri c'era infatti un forte temporale. E così, ho avuto tanto, molto della vita, ho avuto una moglie, un figlio, due macchine, banco, conto in banca, ho avuto anche l'American Express. Sì, e adesso mi ritrovo qua perché purtroppo non è stato un disguido con i miei familiari. E da un giorno all'altro ci si ritrova da soli, in mezzo alla strada? Sì, perché c'è una salita ma c'è anche una discesa nella vita. Mi dispiace, ma ci sarà un'altra volta una salita. Ci arrangiamo con quello che possiamo. Abbiamo due stracci di messa, così abbiamo ricordato un stelo e abbiamo fatto una capanella. Ci costrucono tutti, la miniera, la polizia, tutti. Vi aiuta la Caritas, anche perché poi mi dicevi che tu vai a dormire in Viale Ciusa. Sì, sì, sì. Però c'è l'altra parte della tua vita, quella più bella, più serena, perché mi accennavi che state facendo degli spettacoli al Teatro Maschio. Sì, sì, oggi è l'ultimo, alle sette abbiamo l'ultimo spettacolo. Complimenti da ogni angolo del palco, del teatro. Bellissimo, raccontiamo, io parlo di quello che ho studiato. Il mio amico parla della sua vita, 40 anni in Sardegna, senza rispettare la sua famiglia, perché è quasi 40 anni che non vede la sua famiglia. Vuole, prima o poi vuole ritornare in Tunisia. Un grandissimo mio amico, d'accordissimo con lui, perché anche qualche volta ho litigato con lui, però sempre verbalmente. Insomma è un compagno di avventura, definiamolo nel senso buono. Sì, sì, ci siamo conosciuti. Avventura nel senso che vivete questa situazione un po' non proprio normale, definiamola tale, perché comunque anche trascorrere le ore della giornata qua dentro, sebbene poi di notte dormite lì. Non puoi ritornare a casa, non puoi ritornare a casa durante il giorno, perché è una, perché proprio in Viale Ciusa è una... È un dormitorio proprio, certo, poi durante il giorno svolgete altre attività comunque. C'era, sì, cerchiamo di fare qualche lavoretto così, se c'è qualcosa, io mi arrangio, lui si arrangia, io non... Senza... In quel sacchetto che stiamo inquadrando ci sono... c'è del cibo, ti aiutano ogni giorno qua i ragazzi che hanno il chiosco là di fronte all'ex carcere. Manuel è un iccone. È un gesto davvero nobile e molto bello. È che io devo, purtroppo, devo rientrare verso le sette, sette e mezza a casa, altrimenti mi darebbe anche la cena. Cosa ti senti di dire Massimo, così ti lasciamo poi a pranzare, cosa ti senti di dire, oltre alla voglia di riscatto, da parte tua comunque, di voler continuare, mi dicevi a testa alta e affrontare non uno ma diversi problemi, a parte la solitudine e anche questa situazione un po' così. Cosa ti senti di dire? Dico soltanto una cosa, come la dico in teatro, avrei bisogno di un lavoro, basta. Quindi facciamo un appello, lanciamo un appello a quelle persone che in questo momento stanno ascoltando e hanno ascoltato una parte della tua vita. Possiamo magari lasciare anche un numero di telefono, se preferisci, o qualcuno a cui far riferimento. Per ora ti ringraziamo Massimo e da Buon Cammino, per ora è tutto, vi aggiorniamo alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.